Musica Io volevo dire che il pezzo di Zalina che presenta... ...gabri, a te il microfono... ...che io posso avviene, ma tengo più ultimi, che io posso eserco tutte le mie porte... ...ufficialmente aperti i 29esimi giochi nazionali Special Olympics Italia... ...di bocce, equitazione, pallavolo, ciclismo e mountain bike Arezzo 2013... ...volevo farvi a chi un saluto da figlio adotivo di questa città... ...perchè io sono tanti anni che vivo ad Arezzo e adesso mi sento integralmente cittadino di questa nostra bellissima città... ...quindi a tutti gli atleti, ai loro familiari, davvero un caloroso benvenuto... ...e vi vedrete, vi troverete molto bene in questa nostra realtà... Un saluto a tutti voi... ...quindi dalla popolazione di Arezzo a seguire questa amministrazione... ...e faccio un prossimo bocca al lupo a tutti voi... ...come è la patria della casa di Sfala, stiamo chiedendo gli astremi... ...e... niente, bocca al lupo per i 10 giorni che verranno... ...e... buona saluto gli astremi... ...io sono da adesso, figlio magnifico della casa di Anacostini... Terminata la cerimonia, l'apertura, un'emozione fortissima... ...tutti l'hanno vissuta qui nella splendida piazza grande... ...e... ce l'hanno dentro, gli atleti spesali, le spese olimpiche ce l'hanno dentro... ...e... così fa da sé, non so perché fa da sé... ...è una grande energia che poi si riversa nelle due location... ...per i giochi di bocce, mountain bike, palla volunificata... ...due enormi impianti che veramente... ...stamani mattina li ho visti veramente belli, caldi, semplici... ...bello, sta andando tutto bello... ...come ti senti Paolo? ...ma, sai, qualche ora di sonno manca... ...però domenica vicino, tutto bello...